E dalla cronaca un'altra inchiesta che riguarda, che tocca l'inquinamento ambientale, in questo caso la Polizia Municipale ha scoperto un'attività di autoriparazione abusiva in strada della Pellerina a Torino. Nell'area una discarica a cielo aperto e 9.000 litri di gasolio senza autorizzazione, potenzialmente pericolosi. Marzia De Giuli. Gasolio senza una certificazione e potenzialmente pericoloso. Ce n'erano 9.000 litri in due grandi cisterne, a loro volta prive della prevista documentazione di prevenzione incendi. Il tutto all'interno di una discarica a cielo aperto a Torino, in una zona periferica poco frequentata, strada della Pellerina. Nell'area opera una società di trasporti che gestiva anche un'attività di autoriparazioni, quest'ultima abusiva. Dovrebbero essere 15 gli addetti all'interno di questa struttura ed erano lavoratori che correvano rischi sia per la presenza di questo gasolio non certificato e sia per la parte dell'impresa di autoriparazione che non è a regola. C'erano rottami di parti meccaniche, copertoni, pezzi di carrozzerie di autovetture e camion e una montagna di altri scarti di ogni genere, con il rischio di infiltrazioni nel terreno di oli esausti. Di fronte a questo scenario si è trovata la polizia municipale intervenuta dopo un esposto presentato da due cittadini. Stiamo eseguendo ancora accertamenti dopo l'intervento effettuato, soprattutto riguardo all'attività di autotrasporto. I vigili del fuoco stanno effettuando verifiche sulla detenzione di gasolio e poi è in corso un'attività specifica del corpo per le strutture edili che sono presenti all'interno dell'area, delle quali presumiamo un abuso di lizio. La parte interessata dell'area è ora sotto sequestro. L'amministratore unico della società, un uomo di nazionalità marocchina, è stato denunciato e sanzionato con una multa da 5.000 euro. La procura di Torino ha aperto un fascicolo.